In Italia si è molto discusso negli ultimi mesi dell'acquisto di aerei militari da parte della nostra difesa. Soldi spesi male, si è detto. Ma la difesa di una nazione non va sottovalutata, specialmente di questi tempi, quando incombono guerre in molte parti del mondo. Guerre dalle quali la globalizzazione non ci esclude. D'altra parte non è un caso che i nostri soldati siano attualmente in missione in almeno cinque aree calde del mondo. Né si può sottovalutare un dato che è stato reso noto nelle ultime ore. La spesa mondiale per le armi sta crescendo. Non accadeva dal 2009. Molti stati, soprattutto orientali, ma anche africani, hanno deciso di acquistare armi a volontà senza badare a spese né alle condizioni di miseria in cui molto spesso vive la loro popolazione. Parliamo di Angola, Oman, Iraq, Bahrain e così via, fino ad arrivare alla Serbia. Ma ci sono anche Cina e Russia. L'anno prossimo la spesa militare della Cina supererà quella di Francia, Inghilterra e Germania messe insieme. Insomma, si stanno riarmando un po' tutti. Si sta riarmando il Giappone, la Corea del Sud, persino l'Australia. Paradossalmente chi spende di più gli Stati Uniti invece sta fermo. Ci sono nazioni, al contrario, come l'Italia, che invece stanno addirittura tagliando i costi di questa spesa. Avrebbe da dire, mentre il mondo va alla guerra, noi stiamo alla finestra, che è una scelta condivisibile. Se non fosse di questi tempi pericoloso anche stare semplicemente a guardare. Auguriamoci allora che le nuove armi restino negli arsenali, anche se gli eventi ci fanno presagire il contrario. Se può consolarci, è bene sapere che l'Italia, se non spende per le armi, ci guadagna, perché le produce e le vende. Allora vuol dire che all'occorrenza, se dovessero occorrere, le avremo a portata di mano.